eh Patrizia Sentinelli di Altramenti e poi Roberto Nicolai voglio dire a Nicoletta che ringraziamo moltissimo per il lavoro che fa ma penso io penso che bisogna fare un momento di presentazione specifico di 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 riflessione specifica con sulle tematiche che vengono portate avanti sul sito di trasformo ci sono in raccolta tutti i primi testi prodotti Patrizia Sentinelli altramente poi Roberto Nicolai Gallieni Amato e è acceso un ringraziamento sincero lo ripeto ma non solo per avermi invitato e avermi permesso di seguire i lavori fin qui e fino alla fine poi ma eh voglio dirlo in particolare a Roberto Morea Roberto Musacchio e a tutti gli altri grazie di esserci di esserci come trasformo ma lo dico non perché siamo amici diciamo intimi danni ma perché trasforma è un luogo di riflessione e non solo sulle politiche italiane sulle politiche italiane ma in un contesto europeo sempre con questo sforzo a mettere al centro la ricerca del contesto europeo e questo ci aiuta un po' a tutti laddove siamo collocati a tenere una bussola di riferimento diceva prima di me Nicoletta per la costruzione di un'alternativa del socialismo no? Si diceva anche poco fa una bussola per capire il contesto se non si capisce il contesto non c'è nemmeno il testo testo e contesto il rinvio il rimando e ha un utilissimo sito lo ricordava ora Nicoletta perché ospita tante cose belle e utili per la precisione per questo mondo e mondo della politica e nostro da ultimo ne sono riconoscente perché è stata pubblicata proprio in questi giorni questa lettera scritta questo sfogo questa narrazione di una nostra amica scrittrice che ha aderito all'appello di Giulia Caminito e di unite azione letteraria per sconfiggere la o per gridare contro la violenza alle donne. La mia associazione di cui sono presidente da ormai tanti anni da quando non c'è più Graziella che voglio sempre ricordare con amore e con gratitudine si serve di trasforma e copera con trasforma per alcune iniziative magari in modo laterale a volte in modo un po' più diretto nel tempo abbiamo fatto la scuola di democrazia alcuni partecipazioni di alcuni convegni un progetto di arte ti ricordi Roberto abbiamo messo insieme dei disegni di bimbi di bimbe di diverse età e per partecipare ad una piattaforma artistica diciamo che trasforma sosteneva di migranti bambini e con viaggi particolari presentazioni di libri e tante altre cose insomma a me pare che sia davvero questo io vi ringrazio e vi voglio dire solo che io non sono qui perché non sarei nemmeno capace in questo momento di dirvi che cosa dovremmo fare per l'alternativa io mi limito semplicemente a dirvi quello che faccio perché a me sembra che sia necessario anche provare a colmare questo gap tra il dire dovremmo che mi fa sempre venire un po' di bolle devo dire e provare invece a fare anche cose piccole apparentemente di fronte e dentro all'orrore così ben descritto anche degli interventi di oggi di questo nostro tempo noi ci siamo certo mi veniva da dire proprio oggi mentre ascoltavo per aggiungere il nostro grido a tante altri che gridano per il cessate il fuoco non la guerra per riprendere per farli per inventare il modo di fare negoziati come se questo fosse una parola che solo Papa Francesco ha dovuto ricordare il negoziato si fa tra nemici si fa prima si fa prima dopo durante e invece si fa la guerra e si continua a fare la guerra ci si prepara ad una guerra ancora più grande allora io penso che dovremo un po' raccontarci anche quello che facciamo e quindi le pratiche che mettiamo in campo noi ci siamo detti ad altramente da un po' di tempo proviamo ad agire pratiche di sottrazione e di scarto all'ordine capitalistico dominante ordine di sottrazione e di scarto che significa dire no alle pratiche di guerra o belliche dire no al profitto no all' ordine gerarchico proviamo a rimetterci in discussione e questo vale anche per le politiche istituzionali per riportare gentilezza laddove c'è orrore ieri facevo una formazione un colloquio di tutoraggio con i nostri ragazzi del servizio civile e abbiamo proprio discusso per due ore su come si può essere gentili senza essere troppo sciocchi o fintamente gentili come certi nostri amici hanno fatto anche dentro alcune istituzioni gentili vuol dire opporsi e contrastare la guerra con pratiche non violente gentili vuole essere anche essere ribelli e appunto scartare praticare il dono vuol dire non non riconoscere i diritti del mondo del lavoro rifiutarsi ad essere supplenti come associazioni a quello che lo stato il pubblico dovrebbe fare o gli enti locali il sistema pubblico nazionale dell'istruzione ad esempio per il campo che noi frequentiamo no significa gentilezza un modo diverso di porre le questioni grandi che ci sono intorno a noi e agire pratiche di contrasto alla povertà noi in particolare quella educativa accompagnando sostenendo in questi passaggi di crescita donne straniere che arrivano in Italia sprovviste della lingua bambini e bambine ragazzi e ragazze adolescenti che come sa bene perché l'ho accennato in un passaggio anche Leonora soffrono tanto il mal di vivere e poi si è adolescenti per lungo tempo accompagnarli a superare non a cancellare la fragilità ma a superare a fare i conti con la fragilità essere gentili vuol dire non mettersi sopra di loro per insegnare cosa fare ma orientarli insieme ascoltare e osservarli allora parto da qui e dirò anche poche cose e concludo perché c'è un certo una certa connessione affettiva sentimentale dunque politica per esempio tra noi e trasformo anche alcune forme della politica istituzionale o partitica quando voi ad esempio privilegiate giustamente dal vostro punto di vista l'osservazione e la ricerca del profilo o progetto politico noi quello dell'osservazione e della relazione con i soggetti capovolgiamo ma lì c'è una connessione possiamo incontrarci perché non c'è il fare senza pensare non c'è il pensare senza il fare sono vecchi abbastanza per dire che non si può fare politica se non si fa ricordo che quando ero la segretaria di roma di fondazione comunista volevo fare una battaglia nel comitato politico me l'hanno impedita ma sarebbe utile riproporlo che era quella di non poter dare la parola prendere la parola in un contesto come in un comitato politico se perlomeno mi ero inventata questa cosa durante l'anno sociale ogni anno si rinnova la tessera non si facevano perlomeno tre o quattro azioni pratiche sociali che arrivavano persone assolutamente insensibili al fatto che si è una comunità interdipendente o intersezionale che dicevano bisogna fare questo ma no tu vuoi quest'altro qui no e tu che hai fatto nulla hai sbraitato magari nel circolo contro l'altro nemici anziché essere capaci con la gentilezza anche di dominare o gestire il conflitto che normalmente c'è nei gruppi quindi io penso che bisogna trovare queste modalità per essere capaci di farci riconoscere soggetti del cambiamento e quindi riprovare a tessere insieme una trama per questo io dico che la mia associazione fa politica è un altro modo di far politica è stato ha riportato un pezzo del dibattito quotidiano che ci abbiamo a casa ehm